Oh mio Dio che gioco è d'arte! Allora, questo è un bentornati a un gioco per caso... Allora, bentornati a un gioco per caso... Quando uno prepara le cose è bravo, giuro! Esatto, bentornati a un gioco per caso Questo video si vedrà anche un giorno del gioco per caso Ma si vedrà anche oggi in streaming Quindi, ciao a tutti Sono Dartirus Ciao a tutti, sono Dezo C'è del disagio, giuro Va bene, quindi abbiamo Fallout 4 E' molto importante sapere... Che ora tu ti alzerai e io giocherò Visto il tuo disagio mentale Perfetto, funziona, però magari se non la mettevo in basso a destra La webcam era meglio Beh, puoi spostarla Sto pensando dove metterla In alto a sinistra? In alto a sinistra O anche qua dall'altro lato? Si In alto a sinistra cosa c'è di tutto importante? L'energia? Non mi ricordo Ma niente, la teniamo qua Sbagliando si impara Come dice Buonasera Fabio Porco Il nostro bell'uomo Ciao caro Se funziona tutto bene Se siamo... Va tutto benissimo E' tutto in HD Turbo Power Almeno qua accanto Continua, nuova Nuova Posso farla io per favore signor Dartilus? Non ci posso giocare io a casa questo gioco C'è un computer di merda Aspetta aspetta Ora ti farò giocare a te Voglio fare questa prova E voglio vedere l'interfaccia Intanto che carica Intanto carica Carica Cosa devo caricare? Guarda Guarda Fall out 4 Toggo vibrazioni al cellulare E Ma che è? C'è l'audio Che audio? Qua C'è dell'audio No questo lo lasciamo Ah il ritorno Quello faceva il ritorno Senti E' fuori Ah sono i bambini in merda Le guerre Sono importanti Oh oh Ha morto Sparati Dai su vieni qua E vai Dartilus mi da il potere Sì Mamma guarda come siamo felici nella nostra famiglia Guarda tu padre è morto Molto bene Guarda I read a guerra E' inglese vero questo gioco? Ah Boom Atomica Tutti morti Male Picchio 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 l'atomica Gattiva Non si fa E E ora stiamo bene Cose strane Luce Mi metto le cupie Così capisci cosa succede Cose futuristiche Robottini che ti tritano al prato Automobile a fusione Computer portatili E' quello che sta dicendo il tizio Era più bravo io da sento ascoltare lui eh Bambini che si ingroppano a vicenda E' guerra Di nuovo Gente che corre verso le fabbriche Perché? Il mondo crollò Giappi La pace divenne un ricordo lontano L'allegria anche E' un anno 2077 Si Si trovano sul barato della guerra totale Mi sa che E' un po' indietro rispetto agli altri eh Ha paura per me, per mia moglie e per mio figlio Il tempo trascorso nell'esercizio mi ha insegnato puntini puntini Che la birra Fa schifo E dopo alza il volume di audio di gioco mi dicono che è basso Va bene Perché mi sa che è già Era già basso di su Tutti i morti Madonna che figlioli Volto Vuoi fare lui o lei? Vuoi fare lui? Non faccio mai personaggi femmine Ma sono predefiniti? No, li puoi modificare in qualsiasi uno Cioè In parte è un modello di base Will Smith? Era palesemente Will Smith quello di prima Il vecchio Come il vecchio? Il vecchio Su, su, segui un po' la strana trama Va bene, va bene La facciamo Lui Lui Va bene Volto Dai, porta la cursore dove vuoi modificare il volto Uh, che cosa figa Ok Che naso adorabile Si guardi c'è anche le altre cose Tipo la rotellina del mouse La rotellina del mouse La rotellina del mouse La rotellina del mouse Accetta nel nado Vai Scala Accetta Che stai facendo? No, il fronte stai toccando C'è la fronte storta Metti uno dei predefiniti sicuramente meglio Va benissimo lui Questi capelli Questi capelli Sì, sì Siamo alla moda Siamo giovani Colore Gli occhi Gli occhi devono essere sì Così Non so cosa stai facendo Neanch'io Fatto Sì, va benissimo Fatto Sì, va benissimo Leggi la chat Artilus No, eh Leggo la chat Wuhu Siamo forti Allora Impostazioni Audio Generale Ciao Sparticiccia Direi che così va bene No, l'audio è a palla A palla? Sì, sì Mi sfonda le orecchie E abbassi con te con la rotellina Aiuto, no Impostazioni, audio Vai Madonna Sto perdendo Ok, ci sono Hu ha Hu ha Hu ha Hu Dov'è che potevo Ho visto che potevo fare qualcosa Eh, che cazzo lascia le porte sempre aperte sta casa Sono un veterano Mica l'ultimo dei pagliacci Cosa devo fare? Andare a vestirmi immagino Ehm, no Armadio Ha ha, vestiti La guerra non cambia mai Informe La guerra non cambia mai Non c'è bisogno di vestirsi di nuovo Ah, sono già vestito? Era in canota, pagliaccio Io non posso Ok, va bene, niente qua Qua c'era qualcosa Ah, la camera di quel strunzolo di mio figlio Eh? Bambino, carino lui Eh? Ciao pupino Ciao bello Si vede che è figlio di un altro Ha 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 Saperlo mi facevo nero Per quanto è la belga Eh? Buongiorno signor, il suo caffè Ascetta un po' di rivolto Grazie Forte Forte Il frigorifero apri Io voglio, voglio spaccare coi Ciao moglie Ma la moglie Ehi Oddio Non tanto E' bello come guardo questi ming ritardo io Non sto guardando da lì Va bene Si vada signori Penso non dobbiamo farmi nulla qua Spostati Bravo perché io non lo cambio Si va bene Ciao Cosa devo fare? Martius Fabio Non lo so Deza che devi fare? Bevi No sto scherzando Vai verso la porta Volevo uscire io Qua Quell'altra porta Ah quella Quella figa dici Andiamo Ah tutti fuori Ehi chi sta arrivando? Chi sta arrivando? Chi sta arrivando? Che vuoi? C'ha una faccia che non mi piace sto qua Buongiorno Siamo della Volpe Con le frecce Ok Ok Ma che faccia donna come li ha fatto vorrei Guarda lui Ho capito Diffugio anti-atomici Diffugio anti-atomici Diffugio anti-atomici Oh niente meno che il suo futuro Non so se l'ha notato signore Posso rompergli la faccia? No Peccato Beh fai quello che ti pare Ma già stancato Ti puoi schimpare di conversazione se ti danno questo No va sentita la conversazione Ti preoccupare La gente odia Che non puoi rubare degli oggetti Ma anch'io Io voglio tipo bruciare le persone Le case Mia moglie Mio bambino che non è mio Sono qui per informarla che In virtù dei servizi resi dalla scuola Hai rotto Che ti sta dicendo? Che ci vorrà solo un minuto Ma cosa? Tu cosa hai fatto? Eh è rilevante Non lo so Io ho detto di sì sì all'inizio Per levarmi i miei coglioni Ho detto di no Perdita di tempo Noo Maledetto Muglievole Facciamolo Dobbiamo solo chiarire queste semplici informazioni Ah È questo Eh Dartilus qua suggerisci però Ehm Boh Sono tutte stat primarie Allora Forza La forza è la misura della potenza fisica La percezione rappresenta la capacità di adattarsi all'ambiente Influenza di sviluppare 10 a forza No Sto scherzando Quindi punti ho? 21 7 stat Ok Ehm La percezione rappresenta La costituzione misura la tua forma fisica generale Il carisma e l'abilità Influenza la salute elettorale del console Ok Il carisma e l'abilità Bla 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 Io farei 5 a forza sicuro Costituzione cioè Il carisma e l'abilità di influenzare gli altri Influenza il successo nel convincere la gente E il prezzo del mercanzia Intelligenza Agilità La fortuna La fortuna rappresenta la tua predisposizione E la buona L'agilità Determine il nome di puntazione con la spalla E la tua abilità di muoverla A me piacerebbe farlo Carismatico Intelligente Agile Mmm No Forza Costituzione Dai Cosa vuoi fare? Eh te l'ho detto Costituzione Carisma Intelligenza Agilità Nessuna di cui ha un'abilità d'attacco Nessuna? Neanche l'agilità? No La forza e la precisione sono d'attacco Percezione 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 sono d'attacco Ah percezione O consigli forza? Mi pare Ehm No Ma Desa Sbrigati Tanto ti puoi cambiare a un certo punto dell'inizio del gioco Perfetto 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 Grande Grazie ancora Sciacuti dal cazzo E' una sicurezza in più Perfetto Perfetto Non esiste prezzo troppo alto Ottima risposta Ottima risposta Oh i miei momenti Non so fai a sua moglie E ride Bambino Hai sentito toglie Se posso Un show le ho richieste Grazie Fabio No Bambino ha bisogno di me Vieni qua figlio illegittimo del cacchio No, giochiamo con Sean Grande E va, gli fai girare i razzi Si può saltare sta parte? Possiamo arrivare al look E tipo, dobbiamo sopravvivere in qualche modo? Vai Sembra divertente Sembra divertente Non so nemmeno cosa mi hai chiesto Se potivate uscire al parco Cosa? Se volevate andare al parco oggi un pomeriggio Guarda che sta succedendo Guarda la tv Oh no Stanno 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 Andiamo Vai 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 Dobbiamo correre, non abbiamo una macchina Vai, corri al volt C'è dietro casa Mamma, stanno costruendo un bunker antrotamico gigante dietro casa nostra Ma che te ne fai della valigia fesso? Levate le balle di mia moglie per favore Vicino parla Intercede per la moglie Passa davanti Passa davanti È il momento dello scatto Vieni moglie scema Io ci aiuti Voi due Seguitemi Forza Che ne sarà di tutta quella gente fuori dal calcino Stiamo facendo tutto il possibile Non vi fermate Vai Cammina, su Ma che c'è vacuano Tipo Non saliamo sull'elicottero Salite sulla piattaforma Al centro Vieni, vieni moglie Cosa facciamo da bersagli? Ci siamo quasi Ce la capiremo Tutti e due Chiamiamo anche noi Oh mio Dio Non dovrei sultare vero Stai venendo un ondotturto addosso Secondo me eri morto alle relazioni No, assolente Deve andare verso l'alto No Non posso Eh, vabbè Tutti e morti male Bello Questo qua è full out 4 Era bello Sì, ce l'abbiamo fatta Insomma Scendete tutti dall'ascensore E salite con calma le scale Non dovete preoccuparvi Vi sistemeremo tutti Nella vostra nuova casa Volp 101 Un futuro migliore Sottoterra Quindi dobbiamo Di salire le scale Bambino Uomo Donna Pescino Bravo Fabio Bravo Fabio Moglie? Ti cazzi Vai avanti Ti segue la moglie Manda affanculo Il signor Hable Non hablo spagnolo Vecchio di merda Vabiti Grazie E adesso L'hai messo te il nome allo streaming? Ah, sì Ok Come ti va gioia la tuta? Prendila Scusa Ah, l'hai già presa? Sì Vai, vai, vai Prendi Figo il dottore Grande doc Ricordati bene i suoi vestiti Posso vedere anche la sua faccia? Sì Non ti serve quella I suoi vestiti? Ok Camice Maniche tirate su Polsino Pantaroni beige Scarpe marron Perché? Non ti ricordo Ok Moglie Brava Guarda che faccia schiaffi Io ce l'avevo qualche dubbio Anch'io abbastanza Non mi sembra usare di decontaminazione sta cosa La capsula ti decontaminerà e detrissurizzerà per poter poi procedere Rilassa Inizia una nuova vita Residente al sicuro Ciao moglie Segni vitali Normali Procedura completata Bella lì Mi hanno surgelato Mi hanno surgelato Cioè mi hanno surgelato E ora mi sto risvegliando Ovviamente quella davanti a me è aperta No sono surgelati anche loro dentro ancora Senti cosa ti dice Che ha detto sospesa qualcosa Che è la cosa Wow 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 Provo a picchiare il pedo Il tasto sinistro Il mouse Spazio E E Oh Pezzo di merda Guarda mia moglie Anche se mi ha tradito con un uomo di colore Cosa ho detto? Perlomeno abbiamo ancora il piano B. Quello va ucciso. E vai, siamo liberi. Libertà, libertà. Ok. Ce la puoi fare? Ce la posso fare. Devo vedere le missioni. Cosa devo fare? Nulla. Ok. Stai qui e muori. Vai. Avanti, 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 Dio mio! Dai, dai, apriti. Moglie! Allora, com'è? Troverai colpevo e riporterò a casa Sean. Troverai colpevo e riporterò a casa Sean. Vamonos. Ok. Non si sa mai nella vita. Ah, ah! Quattro, quattro. Ciao, cari. Uh, guarda. Cacciavite. Chiave. Non c'è niente. Uh, martello. Inventario. Non ce l'ho? Non ce l'hai ancora. Ok. Devo uscire anche di qua, forse? Chiusa questo. Ok, allora usciamo di qua. Contattare un manutentore della Voltec per ottenere assistenza. Non ho visto una mega platta, vero? Uh, manganello. Ok. C'è un fight. Steepack. Terminale di sicurezza. Immediatamente. Io ve lo sono letto tutto, evita. È inutile? No, è la storia del team di sicurezza del Voltec. Praticamente. Praticamente scopri che nel V111. Si. I tizi. Ta-ta-ba è indietro. Ok. Ta-ba esci. I cittadini. I cittadini come te erano stati messi lì per un esperimento. Dovano essere criogenizzati. Dice così. Criogenizzati. No, ancora più ommonizzati. Vabbè, non importa. Dovano essere comunque congelati da ignari per un esperimento. Ah, figo. Posso farlo anche a terza persona? Orrendo al terza persona. Gusti. Non capisco la distanza. Ok, quindi. Scarafaggi giganti. Scarafaggi giganti. Eh, lo so, amico mio. Lo so. E quindi, praticamente, eravate parte, sciavate parte dell'esperimento che dopo 180 giorni dovevano il personale del posto doveva abbandonarvi lì. Il problema è che dopo 180 giorni c'è stata un ammotivamento... Ammoni... Vabbè, capito. C'è stata una ribellione con il capo della... Sono vuote? O piene? Ma... Non è che sia buona, piena, però... Ok. Oh, questo qua può essere utile. Fornelletto. Tazze e caffè non ci serve. Uh! Tostapane non ci serve. Ci serve? Lo prendiamolo. Ok. Apriamo. Andiamo, andiamo, andiamo! Non mi piace questo ambiente. Eh... Facciamo che non mi avvicino qua giù. Wow, 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 wow! Ci sono altri? Qua c'è uno morto. Ah, ma è morto da tanto. Dove sono tutti? Ok. Ok, cazzo di scarafagioni. Cazzo volarò! Che cos'è quel un rad che ho guadagnato? Guadagni radiazioni. Ok, vai. Cosa vinco quando ne prendo 10? Perdi di vita. Massimo. C'è il tipo di vita massimale? Ok. Sì. Ah! Bella zi! Qualcuno ancora ti? Qualcuno è piaciuto. Oh! Ok. Ok. Comunque... Quello era il capoccia del posto. Sì, l'ho capito. È... È stato... Devo fare qualcosa qua? No. Sicuro? No. D'artilus! Sei pessimo! Apri la galeria. Tipo l'ultima devi fare. Tab. Ultima. Vai. Vai. Sempre tab. Ok. C'è un'armona bellissima. Mi ho già presa una? No. Lì, allora... Lì. Qua dentro? Sì. Però dice non le forcine. Quando trovi la forcina mi diceva che non ero in grado di aprirla. Ma le trovate qua? Sì. Questa zona? Sì. In fondo a questa cosa se non sbaglio. Di sigare? Lì è dentro lo specchio. Forcina 5. Ok. Ah, forse perché la stats basta che ti permette di scassinare le cose? La serratura è resistente. Troppo complessa, sì. Ma... Lui ci aveva il coso al polso. No. Ah, questo è il dottore. Ah, sì. Questi sono i suoi. Ok. Schedari. Forcina. Ci sono altre forcine. Ma se non c'è più. Vabbè, andiamo. Esatto. Miri meglio. Con la V fai sempre la cosa figa, eh. Con la V faccio sempre la cosa figa, eh. Ok. Non me la fa fare, non me la fa fare, non me la fa fare. Ecco la fu, scusa. Eh, anche da ascolto Arken. Ho sprecato un sacco di munizioni inutilmente. Sessantacinco per cento alla testa. Eh... Selez... Eh... E accetta oppure... Ok. Morto. Sessantacinco. Bravo, Tess. Grazie. Ok. Dammi la stoccarne schifoso. Se mi stanno chiedendo quando vedremo un Drunk in Stream, ma non si può fare, quindi... Oh, voglio bere. Il giorno in cui... Il giorno dopo non dobbiamo andare a lavorare entrambi. È vodka quella, in realtà. Non mi è scoperto. Eh... Vi dare luci forti. Usa attacchi in mischio e muoviti lentamente con premi... Caps Lock. Cosa devo fare? Ah, ok. Perché chi c'è? C'è nessuno. Lui. Era per colpire le spalle. Oddio. Non ci sono superstiti. Non ci sono superstiti. Beh, basta, abbiamo fatto l'attacco stealth. Munizioni. Grande, grande. Grande, grande. Comunque, buonasera. Essio. Uh, eccolo. Era lui, allora, il capo. Cioè, il dottore. Grazie, Doc. Non sai che potrei caricare l'applicazione per metterlo sul cellulare, questo? Forte. Cioè, il menu. Ah, sì? Di gioco. Questo menu. Ok. Grande. Cosa devo fare? Che vuoi della mia vita? Seleziono una scheda con mouse 1. Usa IP per cambiare la selezione. Premi in T. Ma scusa, fammi fare quello che mi dice lui. Premi in T. 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 Tieni prima del tasto destro del mouse. Scendi. 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 Ma stiamo scherzando? Guarda, ogni stella è un punto, eh. Ok. Vedi? Quelle stelle. Si, si, si. Fascino per i cosiddetti. Carina questa. Eh, sto moco ti piombo. Fine. Non ho altro da dirti. Eh, tab, chiudi. Uh, bottoncione rossa. Seguenza ciclica della porta del voto. Ci sarà un giorno in cui le linee a Sardegna andranno bene, ma non è questo il giorno. Poveracci. Di qua non ce l'ho andato. Così. Bella tasta. Coda. Di qua ce l'ho andato. Ah, da dove sono arrivato, probabilmente. Beh, si esce, signori. Tutta una musichettina fica o sbaglio? No, dire vero c'è tipo... Come ti cambia l'arma? Uno? Eh, quattro, tre, poi ti è tutto un sistema di bindi, non diverso. Comunque quattro e tre. Si, c'è la musichina carina sotto. LIBERI! Andiamo a recuperare il nostro figlio quel pagliaccio. Pagliaccio. Quel bambino di colore non nostro. Andiamo, andiamo, andiamo. Come siamo belli. Sì. Wuhuu! 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 Non è malvagio per sparare. Il giorno stai fisso e il mercoledì. Ah, posso cambiarlo. Sì, comunque puoi cambiarlo. Oh, no, mi piace. Hai la mia percezione. Eh? Sì. È tanto? Quando? Quando l'hai fatto. Prima. Non ci ho fatto caso. Perché è tanto? Vabbè. Mi piace. Andiamo! Cosa dice? Ragazzi, ma invece ci sta un giorno fisso? Sì. Domani. Domani, domani. Domani saremo qua io a dartilo, a fare lingua in bocca, a mangiare le sue caramelle. C'erano tantissime prima. Ok, immagino ci sarà un ambiente molto allegro fuori. Guarda gli alberi! Ma è tutto come l'abbiamo lasciato! Dov'è il problema? No, domani, domani si streamma. Ok. Mi fa un po' male la luce. Ehi, ciao. Mi sono abitato alla luce. Porca vacca. Tutti morti, eh? Ok, posizione d'ascensore, chiave inglese può essere utile, cartelletta può essere utile. Oli a caso. Uhu! Tutti belli e vivi, eh, raga? Allora, qua sotto ci sono le case, ma scendere da qua mi pare poco savio. Quindi faremo il giro. Eh, sto a casa nostra. Ho fatto un discorso senza punteggiatura e tutti capiranno. Cosa? Che c'è c'è la nostra? Ah, qua davanti. No, vabbè, sto scendendo da qua. Andiamo qua. Mmm, c'è nessuno? No, va bene. Belli vivi, eh? Come piace a me. No, ho preso un portacena. No, il ventilatore vi daremmo di prenderlo. Questo? Unconto, ti abbassi. Carne e scapola. Mmm. Buona. Buona, sicuro. Sana. Grande. Ok, posso correre col shift. Andiè, non mi fido. Posso ottenere il mouse per modificare la vita. L'ho appena fatto. Eh, aspetta, potevo prendere qualcosa qua. O no? Non sognato? No. Posso prendere le foglie. Dov'è? 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 Dai, l'avevo visto. Ah, forse in basso. Dov'è? L'avevo visto. Forse l'ho preso? Non lo so. Vabbè, andiamo avanti. Non è importante. Le piante non sono importanti. No, no. Vero? Non sono importanti? Eh, c'è l'acqua ancora. Ma dov'è il problema? Ragazzi, tira su i muri. Abbiamo rifatto la casa. Una scoperta Sanctuary. Più 22 punti esperienza. No. Non lo facciamo i 24 euro streaming domani. Ragazzi, c'è gente che lavora qua. Wow, wow, wow. Che è? Che è? È dentro il cestino. È dentro il cestino. Ma ti pare? Ma Dartilus è immortale tipo sto co... Guardalo! 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 Ma muori! Muori pezzini! Ma l'hai visto anche tu o è un bug che l'ho trovato solo io? No, l'ho trovato solo te! È stupendo! Definisci stupendo! Questa che è andato qua. No, è dei vicini tipo. No. Che fai non lo esplori? Che fai non esplori tutto con rabbia? Creando Giulietta Capani. Scusate, scusate. Valigia. Muovi il mouse per girare la forcina. Usa per ruotare il cacciavite. Se il punto scelta è quello corretto, la serratura ruotterà. Prendosi. Se la serratura oppone resistenza, li lascia e riposiziona la forcina. Ok. Non ho capito un cazzo. No. No. Ok, quindi... Quasi, quasi. L'ho rotta? Si. Quindi era tipo così. Bravo. Forcina. Macchina fotografica. Maglietta, scacchi e pantaloni. Basta. Tab. Bene, andiamo, andiamo, andiamo. No. No, perché non ho la pistola, raga? Parliamone. Però ci sia nessuno qua di vivo. Ma questa non è casa mia. Dovrebbe essere casa mia questa qua. Ehi! Grande! È vivo! Robottino! Cos'è successo? No. Cos'è successo? Non è vero. Guarda che frontone e mascellina piccola. È nato piccolo. Bravo! I gerani sono l'invita di questa zona. Ma le cose tornano a... Sono venuti al volo. Magari li hai visti. Armati. Con strani vestiti. Sul caldo il figlio della signora rosa che vuole in giro con il suo costume di Halloween una settimana fa. Quella che ha un bel coraggio. Non sta bene sto coso. Ci saranno gli stream che si fa la schilosa. Tu parla, tu parla. L'hanno ucciso. L'hanno... 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 L'hanno uccisa. Signore... Queste cose che mi dici... Queste... Eh... Cose... Io... No... Non facciamo una bella attività di patina. Scacchi. O... Magari la charada. Ciò... Adora quel gioco. Lo che vedi. Il codo è... Con me. Codsworth. Oh... Era con la signora. Ricorda? Forse... E' andata a casa dei Parker. Per far giocare. Ok. Sono certo che tornerà presto. Ma tu sei scemo. E' sparito cazzo. Tantaggio di quanto pensassi. 200 anni. Cosa? Ciò significa... Ehm... Cosa vuol dire giallo? Quanta gente si rifiuta di dati informazione... Puoi tentare di persuaderla. Codsworth. Ti comporti... In modo un po' strano. Che c'è? Io... Io... Signore... Questa... Due... Un cretino pensa di essere banato perché ha detto... Porca madonna... In... Chat. Eh... Sciocco. Un... Ah... 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 E gli ho scoperto quanti anni sono passati. 200. E sto capito perché non sta bene perché non riesce a lucidare i pavimenti. C'è la gente che è stata lucata e tu ti preoccupi di partire il pavimenti. Che cosa sa il cosmo? Credo di non sapere nulla signore. Quando sono cadute le bombe siete scappati tutti in freddo. Ero sicuro che lei e la sua famiglia poste. Ma... Ho trovato questo... Ah... 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 Che c'è? Ah... Vabbè porco quindi posso bestemmiare? Si. Ahahahahah Ahahahahah Grazie porco ora... Justalo prima! Vogliamo cercare insieme nel quartiere? Potremmo trovare la signore nel piccolo show. Hai visto qualcosa di between? Oh, soldo signore, cani e mosche fastidiose, ne vuoi indagare? D'accordo. Va bene. Quindi che stai facendo, Dato? Ma che se devo indagare lo sto seguendo. Andiamo, bello mio, andiamo! Andiamo. Comunque questa è l'indagine, bella. Madonna, ma è fortissimo! Stanno uccando le mosche. Beh, ho pisto, coso. Grande. Ok. No, andiamo un pochino di più. Andiamo ancora un pochino di più. No, l'altro lato. E' calma, Dato. Mmm. Gigi. Presa. 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 Inventario. Presido rosso. Dove sei andato? Vieni qua, bello mio. Andiamo, andiamo. Comunque Fabio ha perfettamente ragione. Banna i... I cosi, i spammer. Ma che hai messo? Questa, la pistola artigianale che ho trovato in una cosa. Volevo provarla. Ma lui nuca tutto quello che trova. Pronti, dai. Eh no, infatti, un po' mi secca. Io volevo... Ne lascio una, per favore, la prossima volta? Io sto lutando tutto come se non ci fosse un domani. Ah, è ok, da sole. Sì, sì. Luta, luta. Voto. Andiera americana. Oh, credi. Che vuoi dalla mia vita? Perché sei ancora dentro? Parlaci. Eh, non succede nulla. Eh... Ok. Capito? Non puoi arrenderti. Non mi arrendo, non mi arrendo. Concordo. C'è ancora qualcuno a coccolo. Sì, anche se sono un po' malmessi. Ricorda la strada? Devi attraversare il ponticento a sud. Vuoi dal quartiere. E superare la stazione di Red Rock. E... Va bene, Fabio. Potrei avere un bitire di oltre 3K. Tu dici che dovrei diminuire? Può essere. Cioè, mi mandi da solo? Abbiamo dimostrato di essere una cosa fortissima che nuca tutto e mi mandi da solo? Certo. Pezzo di merda. Perché dobbiamo andare di là, tipo. Sì. Magari però se segui le indicazioni stradali che ti ha dato, segui la strada, vedi un ponticello. È di qua, no? Eh sì. La strada. Vabbè, non mi fa stare di qua. Ho scorciato dietro. Guarda qua, una cassetta rossa interessante. Macchina da scrivere è bella, ma mi pare pesante. Uh. Da quanti potenziamenti? Posso farli tutti? No. Nessuno? Sì. Qualcuno sì. Il problema è che i materiali sono quasi in comune. Vabbè, forse questa è da 10 mili. No. Questa è da? Ma che spara sta cosa? Scusate. Premi ESC. Non la devi premre ESC. Vuole da prendere la bella? Bravissimo. Sparano un tipo di munizioni diverse e sono poche, quindi non le sprecheremo. Per scoprire cosa spara sta cosa. Però siccome dell'altra abbiamo più munizioni, direi di potenziare questo in qualche modo. Allora, caricatore standard, mirino standard. Ah, ok. Mi serve della roba. Niente. Allora. Ah, qua posso fare un po' di cose. Castello leggero, castello pesante, calibro. Allora. Peso minore, danni ridotti. Peso maggiore, danni migliorati. Danni critici, migliori. Danni migliori, in generale. Beh, già questo mi piace. Cadenza di fuoco migliorata, danni a portate inferiori, no. Questa ci piace? Acciaio, adesivo, ingranaggio, petrolio. Ok, possiamo fare questo temperato. Canna corta, canna lunga. No. Canna corta. Standard. Grazie. Impugnatura standard. Riduce il rincolo e viene la precisione senza prendere una mira. Ok. Garigatore standard. Niente, va bene. Mirino. Possiamo far solo standard. Rompifiamma, niente. Era questo. Acciaio, acciaio. Crea. Grande, abbiamo fatto un bel po' di exp. Perfetto. Cioè, ah, perché ne ho due. Giusto, giusto, giusto. Manganello, nessun miglioramento. Peccato. Esci. Escare. Inventario. Grande. Tab. Cosa è questo? Ah. L'officina di moneti costruire, modificare, rimuovere gli oggetti e strutture vicine. Usare per scorrere le opzioni, previ per trovare gli oggetti e strutture che vuoi costruire. Se l'oggetto è selezionante, beh, ok. Ah, posso fare una casa? Posso fare dei mobili, delle decorazioni, energia, difesa. Risorse, negozi, creazione oggetti, banco di lavoro, ok, ok. Lasciamo stare. Vediamo risorse, acqua, posso creare acqua. Acciaio, tessuto, ok, no, niente. Risorse, cibo, niente. Sazione, legno, sazione di materiali recuperati. Vabbè. Mi spiegherà Dartius quando ritorna. La chat è troppo lontana per i miei gusti e per anche la mia vista e per farmi leggere. Uh, guarda, un oliatore usato. Ah, niente. Vuoto, vuoto. Dartius è andato a prenderla bene, ma in realtà è stato luccato anche lui e non tornerà a breve. Questa è casa mia. Uh, cassetta è la posta. Vai, vuoto. Ancora è casa tua. No, no, ho trovato il banco da lavoro e mi son perso. Ho fatto, ho migliorato la pistola. Ma le esploriamo le case, intanto torneremo qua, immagino. Ok, le esploreremo un'altra volta. Andiamo al ponte. Grazie. Acqua. E acqua, giuro. Uh, mi distraggo. Wow, wow, che è stato, che è stato, che è stato, che è stato. Porca puttata. Uh. Eh, non sono abituato. Salute. Buona lì, sta qua. Loro lì chi è? Lo conosciamo? Eh? Ci fidiamo di lui? Bello sto ponte. Mm, buona quest'acqua d'artico. Cos'è quello? Cos'è quello? Non è più uno zaino, tipo. Cos'è? Non ce l'ho, non ce l'ho. Butati. Perché ho appena visto una cosa inquietantissima. Canna di cani selvatico. Cartuce per fucile, munizioni, steampak. Corto fucile doppia canna, completo da reglietto. Vestiario. Anello ruziale. E qui, vaggiare obbligatoriamente. Completo da reglietto. Questo qua sono le cose che mi dà, eh? Eh. Ok, non mi dà nessun miglioramento. Tutta volt. Mi produce... Eh, vestito rosso pare brutto, dai. Quindi come siamo ora? Ma no, che brutto. Sembra un nazista fallito. Cos'è? Ah, niente. Nulla di utile. Vabbè. Ah, salve signor. Tutto bene? Ale. Seguiamo la strada? Seguiamo la strada. Andiamo signori, andiamo. Dartius interagisci un po' con la chat. Ok. Allora. 25 km all'ora. Non puoi dirmi cosa devo fare. Ok. Qua sembra non esserci nessuno. Fermo, 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 fermo. Chi mi ha visto? Un cane mi ha abbaiato. Un cane mi ha abbaiato. Dove cazzo è il cane? Ma in realtà non c'è niente in basso a destra. Eh, però mi ha detto... Rilevato, è rilevato. Quindi? Cosa c'è? Chi mi vede? Parla col cane. Ma dov'è? È davanti a te a sinistra. Sulla strada? Sì. No, no, è indietro. Dove? È tipo qui. A sinistra. Ah! Bello, fuffi! Cane parla. Ciao, bello! Che ci fai? Tu ha fuori tutto da solo. Sei un bastardo. Hai perso il tuo padrone, bello. No! Poverino! Accarezziamo il cane. Vero che non può morire lui? Qualcuno sta esplorando il finale. Menomai non ho letto. Qui, vieni qui. Commercia? Cosa vuol dire commercia? Mi puoi dare roba. Basta, stesk. Andiamo, andiamo, esploriamo. Cos'è questo? Niente. Denaro prebellico. Il fatto che ci scriva denaro prebellico mi... Mi suona a dubbio. Cartelletta, prendi. Armadietto, prendi, prendi, prendi. Darti lo sito e ti può andare in bagno fortissimo. Quindi? Vai avanti tu, un attimo. Terminale, non ci vuole di usarlo. Di realtà, un sacco di cose utili, probabilmente. Scatola di tappi. I tappi sono la moneta corrente. Sì, lo so, come in ogni fallout. Guarda, ho un altro banco da lavoro. Vabbè. Postazione per armatura atomica. Banco lavoro armi, l'abbiamo usato prima. Questo è l'altro banco. Ecco qua, ecco dove ho posizionato l'armatura atomica. Prendi tutto. In certa non ho spoilerato un finale, quindi non leggere. Q. Ah, cazzo sono! Cazzo sono! Q, comunque. No, io vorrei... Non posso targettare... Eeeh, con Q? No, non le gambe, la testa! Uhuhu! No, 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 no! No, cane, il cane! Ho sparato il cane! Ho sparato il cane! Stai bene, cane? Scusa! Hai mortale, tipo, il cane? In questa sponda, sì. Ma posso dargli del cibo, tipo? Un pezzo di carne, così. Tipo... Grande, mangia, mangia. Ti fa bene. Ma pezzo di merda ce ne sono ancora. Minchia. Questo è difficile da... Vabbè, è più bravo il cane di me, abbiamo capito. Andiamo, va? Ora devi andare in bagno. Sì, tantissimo. La via giù, va. Sì, sì, un attimo. Vabbè. Aspetta, vedo giusto cosa c'è qua dietro. Laboratorio chimico? Larva di mosca utante? Probabilmente... Boh, creiamola. Ho fatto il livello. E ne ho fatto uno anche prima, ora che ci penso. Come si livella? Premi tab. Potevo farne altre? No. Ok. No. No. Esci? Stava la canta. Un tab. Un tab. Un tab. Un tab. Un tab. Ah, no, ma posso prendere anche queste cose? Quelle chiare sono quelle che puoi prendere, le invisibili sono quelle che non puoi prendere. Perché ti servono le statistiche? Cosa ti serve? Cosa ti manca? No, ok. Tipo questo? Richiede? Fortuna se hai due. Agilità intelligenza, ok. Borseggio. No, non mi piace borseggiare. Questa è bella. Questa non mi dispiace. Cosa consigli dartilus? Scassinare meglio. Dov'è? Giù. Giù. Poi? Tanti dentro accetta. Ne ho altri? Dove hai dei punti? E' un altro punto... No, non hai altri punti. No, chiede di no. Passa la parola a Dartilus che ci intratterà con canti e balli popolari e è un po' di schifo. Come al solito. Mamma mia, la visuale in terza persona è proprio dai ricchioni. Il nostro obiettivo è andare al museo delle cere. Beh, sti cazzo di roba delle secondarie. Il cane... Perfetto. Sentite tutti quanti gli spari che arrivano sottofondo. Noi andiamo a salvare la gente del museo. No, 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 no. Mamma mia, è esploso male. E' morto? No. Che è successo? Sparatoria. Eh? Sparatoria. Con? Niente inutile? Beh, direi è andata bene. Che c'abbiamo? Quello è morto? Che vuole della nostra vita? Che vuole della nostra vita? Che vuole della mano? Ok, vai a prendere... Aspetta, dov'è il primo che ho ucciso? Non mi ricordo. Ehm... E' qua. Ehm... Bravissimi. Avete capito tutto la vita? Uh, bello quello. Cos'è? Che arma era? Però l'asperatore posso farla io? No. Perché? E' abbandonato nel momento migliore. Eh, vabbè, ma che ne sapevo? Io devo... Cioè, stavo pisciando addosso. Cos'è che era? E' un moschetto laser. E' quello che giri a manovello, mi sa. Non l'ho mai provato. Quando l'ho preso io, sono andato in corpo a corpo con un macete. Bravo, hai capito tutto. L'artius non mi fa fare... Non mi fa usare il moschetto laser. Sai che penso sia un scarico? Spara. Mi carica. Oddio. Ah, puoi caricare più di... Puoi mettere più di una caricatura. Usalo, spara! Guarda che... Carica una volta. Non due! Mi specki i munizioni. Spari tutto assieme quello che carichi. Magari faranno anche più danno. Un museo di merda. Poca inquietata a questo posto. Pericolo te lo dice quando c'è un nemico nel vicinanza per scendere? Chissà che dove sei. Cioè, chissà che sei lì. Orca troia. Sì. Mi spogli in chat poi si passa alle ore... Eh? Ragazzi, mi distraggo un attimo. Voi parlate di cose assurde in chat. Non riesco a capire assolutamente nulla di cosa sto dicendo. È lootato il corpo? Sì. Bravo, sali. Dove stiamo andando? Eh, la scatola. Hai caricato un paio di colpi? Non abbiamo tanti di questo. Forse dovremmo passare la pistola di nuovo. Hai pensato che fossero persone vere, vero? Sì. Il macete non mi ricordo dove l'avevo trovato. Ma non lo voglio il macete. Non è vero, lo voglio tantissimo. Sbammi il macete! E riesce a salire di sopra? Ok. Nascosto. E te vedo, non c'è nessuno. E gli scaffali, le cose? Cerca. L'obiettivo era far fuori tutti quelli qua dentro? Sì. L'abbiamo fatto? No. Rilevato. Sì, serio? Sì, sì. Deve ricaricare. C'è qualcuno che parla? Cos'è? Ha la torcia? Spegnila, scusa. Perché è la torcia al centro? Ti piace quest'arma, eh? È bella. Ma basta una carica, comunque. Sì. Cioè, non trovi più la gente che hai ucciso, però, cosa è un altro discorso. Bisogna le pistole. No, prendi tutto. No, poi è troppo pesante. E butti via un po' di cose. Fidati. So cosa vale di più. Vabbè, io no. Quindi per me prendi tutto. C'è qualcuno lì. Sì. No, non lì, dall'altra parte, a sinistra. La fa di merda. Non l'hai ucciso? Ah, sì, l'hai ucciso. C'è qualcun'altra. C'è un tirapugni. Ah, no, non ce ne sono altro. Eh, quello? Quello non lo chiami qualcuno? Eh, quelli che sono venuti ad aiutare. Ah, ok. Che sia mai un tempismo impeccabile. Presto il guardi. Grande. Sei in debito. So. Siamo forse tornati indietro nel tè. Proteggere la gente nel giro di un minuto. Era questo. Quindi sono a ruolar. Volevo farle... Diego, vieni. Ora arriva la cosa figa da fare. Uccidere gente? Indossare un'armatura atomica. Noi c'è un bel fucile. Eh, quello è il nostro. Eh? Uno è il nostro. Però mi sa che il suo è un minuto. Sicuro che è più bello il suo? Non ne sia più bello il suo. E che? È più figo. È diverso il nostro. È più bello il suo. Eh, appunto. Uh. Un'armatura atomica? Mi piace. Prende l'armatura, prende il mitragliatore e sparo la gente. Mitragliatore a canne rotante. Ora si risuola. C'è solo un problema. L'armatura è senza evitare. Probabilmente è a secco da un centinaio d'anni. Può essere riattivata. Ma su questo punto siamo un po' vero. Quindi, qual è la soluzione? No, è più figo il suo decisamente. Un nucleo di fusione standard. Una batteria nucleare ad alto rendimento e lunga durata. Il passato veniva usata dall'esercito e da alcune aziende. Ahah. Io riparo le cose. Le sistemi. Violare la sicurezza non è proprio il mio caso. Tu potresti riscendere giù. Non può essere così. Beh, wow. Quindi devo andare a nucare gente? No, no. Non c'è nessuno a ammazzare. Vai di là. Sinistra, 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 sinistra. Di scendere giù. Tutti pure qui a destra. Questa non l'ho lottata. Eh? Non l'ha lottata? No, non l'ho lottata io. Prendi, prendi. Vai, vai. Non cammina. No, no. Di là. Vai. Di qua? Sì. Su? No, a destra se non sbaglio. Eccolo. Devi hackerare. O provi a hackerare questo. Sai come si hackerà? Assolutamente no. Allora, devi trovare la parola, la parola, aspetta, la faccio io, ma no, spiega come funziona. No, dimmelo, spiega. Devi trovare. Scegli una possibile password, come ho su, non sai la password in stridità sbagliata, se lo schermo avrà passato un ordinate che corrisponde esattamente alla password determinale. Guarda. Allora, noi abbiamo quattro possibilità, che sono queste qua sopra, ok? Noi all'inizio possiamo andare a caso, va bene? Prendiamo una password, scriviamo, guardiamo qual è, ti dice quante di queste lettere sono giuste, può essere anche la posizione, ok? Ok. Per andare a esclusione cerchiamo qualcosa con la W all'inizio, guardiamo affinita a zero, quindi le cose in comune, quindi non c'è... Nella W e nella O? All'inizio, e no, non è detto, perché deve essere, mi sa, anche nella stessa posizione. Ok. Ok. Se sbagliamo i quattro tentativi? Si blocca. Come si può fare, se sei a un tentativo, tabbi e esci indietro e ritorni, la password cambia, parola, hai di nuovo quattro tentativi. Ok. Oppure cerchi delle cose tra le righe, tipo, aspetta, di trick tra le righe, che ora ovviamente non ne sto trovando neanche uno, di solito chiusi tra parentesi quadre, non voglio avere gioie. Questo qua? Bravo. Ti rimuovono parole o ti danno... Ok, ok. O ti cercati un paio di quelli o ti ridanno tentativi. Quindi sono grossi, non sono il singolo carattere. No, di solito sono chiusi tra parentesi quadre. Eccolo. Oh, cosetti. Vai. Hai dimostro la parola? Ok. Non sa questo suono. Diceno uno? Sì, sì, l'ho visto, l'ho visto. Volevo capire se questo era uno. Parola rimossa. Andiamo di qua. Ricordo che in Word ce n'era una in comune alla parola definitiva. Eccolo lì, c'è uno. No. Quello lì. Cicca. Vai. Questa è un'altra? Questa è un'altra. No. Non ho cliccato. Oh, cavolo, ho cliccato. Ok. Mi sa che sono finiti. Direi di sì. Ok. Adesso hai solo due possibilità. Word è una cosa in comune. Fai tab, esci non bloccare a terminare. Ok, ok, ok. Aha, ok. Allora, troviamo prima le cose. Perché Foyer? È questa. La tristezza. Ah, l'ho premuta per sbaglio? No. Ok. Da Arturus è vero che non è successo quello che penso io di là. Che è successo? Dovresti in bar pc? Esatto. E quindi? Che ti cambia? Niente, niente. Che dice la chat? Che parlano in manuale di bombe e cose del genere. Taglia blu, schiaccia, bibuffa. Non so di cosa state parlando, raga. Allora, lascia la puoi fare. C'è questa cosa. Eeeh. Ce n'era un altro, io sbaglio, no? Ah no. Vai, prova con qualcosa. Cos'è che avevi provato? Foyer non c'è niente comune con Foyer, quindi non è PO, non è FOI, prova questa. Sì. Ottimo. To. Blocca cancella di sicurezza. Vai. Tab. Vai, carcello. Lo potevo anche scassinare. Sì. Ah, lo avrei dovuto scassinarlo, forse. Aspetta, qua cosa c'è? Eh, perché... Eh, perché mi... Era meglio per... Ops. Andrò devo salire. Era meglio per le mie abilità. Vabbè. Ma dove si risaliva? L'estra. Di qua, no? Sì. No, di qua. No, di qua. Ma qui a sinistra. Sinistra. Capirai quando si serveva il cimento per costruire. Ho visto che tipo nel... Nel coso delle trezze di lavoro posso fare tipo il mondo. Posso costruire tantissime cose. Cos'è questo? Oh, prendi tutto. No, il cranio no. Questo te lo hanno lottato? Sì, andiamo, 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 andiamo. Ah, è stra... Dire, sì. Vai. Luce, una scia rossa. Ecco, lo che abbiamo blastato prima. Eccoci. No, no, già fa, lo sinistra. Ah, parla, ci. Sturges. Ah, ce l'hai, vai. Vai avanti. Di qua? Sì. Non so fregarvi nulla, raga, qua. Quella, la statuetta. Guarda che fa. Ti mette io una percezione. Trattavi di percezione 10? Un po'. Non posso fregare nulla, qua. No. Chiave regolabile. Ma ti levi dalle balle. Qua, qua. Chiave di legno, vai. Chiave combinata. Coltello. D'arte, tu sei poco spirito o raccatta tutto? Tu che hai poco spirito o raccatta tutto? Eh? Questo un... 40 minuti in più di te è arrivato qua. Ah, vabbè, ma io ho saltato. Non senti giocato ogni casa. Pannello, perci plastica. Non ti serve questo. Eh? Non ti serve quello qui. Eh, non dirmi cosa mi serve, cosa non mi serve. Fammi godere il momento. E' pronto? Non ti farti distraire neanche dalla chat. Siete pronti voi in chat. Cosa devo fare? Vai, eh? Vai, eh? Qua, su. Capo. C'è qualcuno quassù. Guarda. Buttati di sotto. Senza paura? Sì, sì. No, no, non c'è mira da qui. Buttati pure di sotto. Vai. Dov'è il fesso che mi spara da qua sopra? C'è qualcuno che mi spara? C'è qualcuno che... C'è qualcuno che mi spara da qua sopra la macchina è esplosa direi. Io mi preoccupare di quello grosso. vero. Anche io. Mi ha ucciso il cane, bastasso. Oh cacchio. Oh cacchio. liberati, liberati. Liberati. Ammazza gli altri. Sì, vabbè. Deve di ammazzare però. C'è un'altra ancora. Brulino. Ah. Vieni fuori. Non farmi entrare. Ce ne sono altri? Fai rapporto a presto. Ok. Canne, 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 canne. Ah, ok. Meno male. Sta bene. Stato bene. Pugnatura comoda. Questa c'è un sacco di cose. Buonasera. Ultimamolo, tostin, artigiana e pistola. Ok, andiamo. Munizioni, artigiana e pistola. Master antiasco, occhialini. Fortella. Ok. Ma è ignorante. Oh, guarda, ha una cassettina rossa. Dale. Ah. Cosa? Si è presa una mina. Penso di sì. Possono essere riparati presso una postazione che... Ok. Oh, guarda, ha un'arma. Artigiana e pistola. Munizioni, artigiana e pistola. Chiede al soldatore. No, no. Ciao, raga. Ma questi li vengono già lottati prima. Ancora così, per favore. Possiamo farla tutta così? Posso tenerla sempre, l'armatura? Si scarica. Guarda. Quello in basso a destra è il... Che loro non lo vedono. Quello sotto la tua faccia è il carburante. Lo so, grazie. Bravo. Comunque è da dire che adesso stacchiamo fallout. Dove la tieni l'arma? Ah, visto? Lui è un pro. Tappo, c'è la diffusione. Ok, grazie. Prego. Prego. Grazie a te mi hai dato un'armatura atomica. Come una minigun. Oh! Vecchia fattona. Senti come me la gufa. Io mi gratto, eh. Continua. Grazie, Fabio. Lo so. Nella prossima stream non la sposteremo. Cosa? Che copriva parte dell'interfusione dell'armatura. Dov'è Sean? Parla? Perché? Che pippone fa la vecchia? Beh. Per dirti dov'è cominciare a cercare nella grande gemma verde del commonwealth di Diamond City. Che hai fatto? Il più grande insegnamento del... Saltalo! No, è importante. Diamond City, non mi serve più. Ok. una vecchia fattona. Una vecchia fattona ti dice che ci sono tante belle cose. Come ci riesco dall'armatura? Tab? No, che è riprimuto è... ma dove la lascio poi? Lì. Ma davvero? Sì. Ma qualcuno me la può rubare? Eh, boh. Io per ora l'ho chiudata dentro una casa. Non è lontano. Ti conosci? Che ha visto il cargo mai? Cosa figa. Se ci perca i pezzi gli mancano dei pezzi. Visto che non c'hai la gamba e il braccio. Ma non posso mai dove stai andando? No, sono già andato a vedere di qua. No, volevo nasconderla. Mezzo ai manichini. Eh? Mezzo ai manichini. Dai, chi se ne accorge qua? Cioè, oggettivamente. Tu entri in questa stanza, no? Dici, eh, ciao ragazzi. Com'è? Bella, guarda questo. Guarda i manichini. Beh, è forte questa. Dai, deve essere ancora l'allestimento. Andiamo, dai. No? Se non c'è, faccio una strage. Oppure ti la fanno di te la strage. Va bene. Questo era tutto. Uhu. Libertà da questo posto di vecchi pazzi sociopatici. Questo era tutto. Ci vediamo prossimamente. Domani con uno streaming. Settimana prossima con un altro gioco per caso e quindi... Ma questa ce l'ho ancora? Sì. Però pesa un sacco. Io l'ho messa in sacco l'armatura. E... Quanto ho? Quanto cazzo pesa? 27. Ah dai, non pesa così. Una pistola pesa 3. 10 pistole, le metti insieme e ci fai un milicano. Questo non deve essere male di arma. Non l'ho mai provato. Nanch'io. Va bene. Grazie di averci seguito la settimana prossima. A domani. A tutti. Ciao. A tutti. Bene. Premi F6. Ciao ragazzi. Al tab. Come salvo? Eh... F5. No, non fare F5. Faccio io. Ciao. 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 Ciao.